A pochi mesi dalla riqualificazione della zona Pincio di Fano che ha visto l'intera area interessata, rivalutata e potenziata nel suo aspetto, interviene il consigliere nonché ex assessore del comune di Fano Stefano Marchegiani, nel quale propone un regolamento chiaro su come utilizzare al meglio l'intera area del Pincio. Di volta in volta decidere quale evento, con che caratteristiche fare un regolamento che sia uguale per tutti in modo che si sappia come comportarsi al Pincio. Questo ovviamente riguarda le tante manifestazioni che si possono avvicendare, con il buon senso nella precedente amministrazione siano adatte delle regole di buona condotta come non ostruire la visuale dei monumenti, in particolare l'Arco d'Augusto, Porta Maggiore, il Bastione e quindi cercare di occupare quegli spazi più innocui. Cucinare al Pincio diventa un tema oggi, lo era prima, lo è ancora di più oggi, vediamo se sono attività compatibili, io non credo, friggitorie, arrosticini e cose del genere. Io ricordo che ci fu una brutta esperienza, uno street food che non rispettò le regole, furono anche pesantemente sanzionati, però non importa, questi signori a volte, quelli che non interpretano bene la loro mission, sono arrivati con più furgoni, hanno fatto di tutto e di più, lì è stata una linea di demarcazione per dire che questo spazio non può subire questi contraccolpi. Nei giorni scorsi anche l'ex sindaco Carnaroli è intervenuto sulla stampa locale, sollevando la questione degli eventi che di solito vengono svolti nella zona. Carnaroli aveva suggerito il trasferimento fuori dal centro storico della Fano dei Cesari, in particolare della Corsa delle Bighe, su Viale Gramsci e Viale 12 Settembre, salvaguardando la storicità della città e dei monumenti presenti nella zona. Anche il segretario del PD Bacchiocchi ha espresso l'idea di mettere dei limiti legati al rispetto del Pincio e nel valutare al meglio gli eventi che spesso vengono svolti. Polemica scaturita anche sull'evento Birra d'Augusto, che da nove anni anima il Ferragosto Fanese, evento che viene svolto nei giardini del Pincio. Il timore è che gli oli degli stand gastronomici possano danneggiare il nuovo porfido installato sulla pavimentazione. Altro oggetto di polemica è il Palazzo Bragaia e, nelle immediate vicinanze, anche la presenza di un bazar. La visione del palazzo deturpato, così come del gonfiabile a forma di papera appeso all'ingresso del bazar nei pressi di Porta Maggiore, non fanno ben sperare di una valutazione consona alla riqualificazione del Pincio. Non per ultime, le polemiche si sono accese anche per le ringhiere sulle mura e l'installazione delle nuove panchine, che secondo alcuni risultano troppo moderne. Questa mattina, ai nostri microfoni sull'argomento, è intervenuto il presidente di Confcommercio. Potrebbe essere giusto avere comunque delle regole, delle regole da poter portare, però è giusto che vengano vissute. Quindi non è che si possono fare solo magari pochi eventi, solo per pochi eletti. Vogliamo una città viva o vogliamo una città dormiente? Perché vedo che i nostri vicini, insomma, si danno da fare, sono molto attivi. Quindi questa è la nostra, è la cosa, diciamo, importante. Perché poi diciamo la verità, sono quattro eventi d'estate, quattro, cinque eventi, insomma, non sono tantissimi alla fine. Ed inverno, voglio dire, con tutto rispetto c'è poco. Direi che possiamo veramente dare un valore aggiunto con tutti i nostri monumenti artistici e culturali.